Ciao, bocca al lupo, sei contento, emozionato? Sono convinto nel partire in questa grandissima scuola, come sempre, allenerò, darò sempre il matto come ho sempre fatto, a partire ieri siamo tutti felici per il risultato, inaspettato ma è una grandissima vittoria, bocca al lupo, bocca al lupo, bocca al lupo, bocca al lupo, ho già preso comunque a gennaio, adesso sono riuscito anche a raggiungere un obiettivo importante per il benedetto, adesso cerchiamo di raggiungerli con la Fiorentina. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti.